Ciao a tutti! Le personalità, i tipi intellettuali. In questo video voglio parlarti delle tipologie intellettuali, che sono in realtà quattro poi tipologie, ma andremo a parlarne bene più in dettaglio. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate video registrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, veniamo al tema e il tema è quello delle 16 personalità. Abbiamo detto che, cioè ho detto che ci sono 16 tipi di personalità che derivano dalle varie combinazioni tra l'introversione e l'estroversione, cioè come utilizzi la tua energia, la sensazione e l'intuizione, come ricevi le informazioni, il pensiero e il sentimento, come prendi le decisioni e giudicare o percepire come intraprendi e vedi il mondo. Questi 16 tipi di personalità che derivano da queste combinazioni sono raggruppati in quattro, potremmo definirli, temperamenti principali, che sono gli intellettuali, i visionari, i protettivi e i creativi. E adesso veniamo agli intellettuali, che poi vedremo, ognuno di questi quattro temperamenti ha quattro sottotipi, diciamo, fondamentali. Quindi ci sono quattro tipi intellettuali, quattro tipi visionari, quattro tipi protettori e quattro tipi creatori. E allora i tipi intellettuali sono, diciamo, lo stratega, l'ingegnere, il capo e il creatore. Questi sono i quattro tipi intellettuali. Gli intellettuali sono tipologie razionali, sono tipologie, diciamo, che puntano molto sulla razionalità e sono ovviamente tipologie iperlogiche. Questi tipi, diciamo, sono comunque tutti introspettivi, logici e alla ricerca di una costante conoscenza. Sono naturalmente curiosi, inventivi, nutrono un amore, una devozione, una devozione speciale, diciamo così, per la loro razionalità. Nonostante abbiano una mentalità razionale e abbiano un approccio coi piedi per terra. Spesso, diciamo, usano la fantasia, la creatività per esplorare le cose a livello più profondo. Quindi le personalità intellettuali sono di fatto una risorsa per la comunità. Tendono spesso a fare brainstorming e risolvere i problemi. I quattro tipi di personalità, diciamo, questi quattro tipi di personalità poi possono presentare dei temperamenti diversi, delle sottotipologie, che sono, come dicevo, lo stratega, l'ingegnere, il capo, il creatore. Allora, lo stratega, che tipo, che tipologia di personalità è, quindi una personalità una. Lo stratega, diciamo, si muove, naviga attraverso la vita con la forza della conoscenza, fondamentalmente. Gli strateghi sono intelligenti e lo sanno. spesso possono essere visti un po' come arroganti, fondamentalmente, perché tendono ad essere isolati. Passano la maggior parte del tempo a analizzare le situazioni e trovare delle modalità per migliorarli. Tendono ad essere disciplinati. Spesso possono essere considerati dei topi di biblioteca, che è uno degli archetipi principali della loro personalità. però non è un'etichetta giusta perché, tra l'altro, queste persone sono pochissimo, diciamo, infastidite dai giudizi degli altri, cioè se ne fottono e tendono a evitare i riflettori, lavorano nell'ombra e non vanno alle ricerche di visibilità. pianificano, diciamo, ogni azione che fanno nella vita e considerano la vita come una scacchiera, fondamentalmente, dove effettuano un gioco a scacchi. Gli scacchieri sono strateghi, gli strateghi sono scacchieri e sono intelligenti e, ripeto, potrebbero essere visti come arroganti. però sono iperlogici e analitici e fanno un passo alla volta, senza lasciarsi coinvolgere più di tanto. Diciamo, possono ottenere tutto perché utilizzano determinazione, fanno un lavoro fatto bene, con determinazione e coerenza. e diciamo che il loro motto è che nulla è impossibile. Poi abbiamo l'ingegnere. L'ingegnere sono brillanti, hanno una logica, una razionalità talvolta un po', diciamo, eccessivamente sviluppata, ma hanno una razionalità comunque indiscutibile, sono le più logicamente precise, sanno analizzare problemi, risolvere le soluzioni. Sono molto riservati, persino solitari. Gli ingegneri sono orgogliosi delle loro prospettive, della creatività. hanno un po' queste caratteristiche. Non danno un grande supporto alle persone quando ne hanno bisogno. Quindi come amici non è che sono il massimo, perché sono molto concentrati su loro stessi. Hanno un approccio molto razionale. Per loro l'emotività è essenzialmente fonte di confusione, per cui cercano assolutamente di farne a meno. Utilizzano spesso delle frasi come Non mi importa, va bene, fa niente, vedrò, di trovare una soluzione. E questa è un po' la caratteristica che hanno, diciamo, da questo punto di vista gli ingegneri. Ma hanno delle capacità, hanno delle capacità notevoli comunque. Soprattutto da un punto di vista della pianificazione. Hanno veramente delle capacità molto, molto importanti. E poi veniamo, dunque, alla tipologia successiva. Come dicevamo, ci sono varie tipologie. La terza tipologia, dopo aver visto l'istratega, l'ingegnere, la terza tipologia è il capo. Il capo è una persona che ha una leadership molto forte, non ha paura di dimostrarlo. Sono sempre qua persone razionali e sanno decidere, anche molto rapidamente. Non perdono tempo quando si tratta di prendere una decisione, quando si tratta di affrontare un problema. Queste persone hanno caratteristica della personalità carismatica, del fascino. E sono dei leader eccellenti. Tendono ad essere dominanti e sanno che non importa quanto siano capaci, ma si buttano e apprezzano le persone che sono all'altezza del loro compito, le persone che sanno abbinare intelletto e determinazione e che vanno a individuare, quindi partner utili per poter raggiungere i loro problemi. tendono ad essere un po' testardi ad ascoltare poco gli altri, tendono ad essere anche un po' impazienti e questo è un po' il loro limite. E a causa della loro rapidità di pensiero hanno una bassa tolleranza per le persone che invece hanno modalità di pensiero più lente. E l'ultima tipologia è il creatore. Queste persone amano invece ascoltare i punti di vista degli altri, amano discutere, amano confrontarsi. Come tutti i tipi intellettuali sono alla ricerca di conoscenza e riconoscono prospettive diverse dagli altri fondamentalmente. Cercano di ampliare fondamentalmente un po' anche la base delle loro conoscenze, anche attraverso la sfida, attraverso la discussione delle norme esistenti. e quindi il creatore è anche da un certo punto di vista un sovversivo perché va anche alla ricerca di come poter trasformare, di poter cambiare i comportamenti. Questo è interessante come tipologia. a volte possono farsi prendere dalla voglia di vincere e quindi dimenticano che spesso può essere necessaria una certa flessibilità e una certa diplomazia. Ecco, quindi in alcuni casi dovrebbero imparare a essere un po' diplomatici. Sono comunque persone carismatiche che pensano velocemente e a differenza di altri intellettuali non amano tanto le questioni pratiche ma preferiscono progettare, creare dei progetti, trasformarli in realtà. Non perché siano pigri, ma perché hanno la capacità di avere una, come dire, una visione anche un po' più ampia del mondo. Anche se ovviamente non sono i visionari, ma il visionario ha un'altra tipologia, diciamo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai scegliere tra diversi tipi di abbonamento. Abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazioni, seminar dal vivo, Abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.